Musica Si è svolto oggi, presso l'Aula Magna dell'Università della Calabria, il congresso sulle dipendenze patologiche, evidenze scientifiche e nuovi percorsi di intervento. Il convegno, organizzato dall'Associazione di Volontariato Progresso Bruzio in collaborazione con l'ente formativo JMB, è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie. Presente al convegno, importanti medici e specialisti provenienti da tutta Italia che hanno affrontato il tema delle dipendenze patologiche, dalle droghe più o meno note, ma anche l'emergenza da gioco d'azzardo, l'abuso di internet, dipendenze da cibo, da shopping e dipendenze affettive. Ricercatori, studiosi e clinici indagano quindi sulle nuove dipendenze, dalla neurobiologia alla psicologia, dalla diagnosi e cura alla prevenzione. Il mio intervento verterà sugli aspetti di ricerca neurobiologici da cui partire per poi avere delle chiarezze sulla clinica. La clinica è molto importante per la parte diagnostica e soprattutto per mettere in atto dei trattamenti integrati, delle terapie che siano basate sull'evidenza e che però siano anche complesse perché si devono integrare tra trattamenti farmacologici, trattamenti riabilitativi e trattamenti psicologici. Io parlerò soprattutto di adolescenza per sottolineare alcuni cambiamenti importanti che ci sono stati negli ultimi anni. Anzitutto come questa fase della vita si è enormemente allungata nel senso che si diventa sempre più presto adolescenti e si finisce sempre più tardi di essere adolescenti e quindi entrare nel mondo adulto. Questo significa che quindi anche il periodo della vita in cui si è maggiormente esposti a delle situazioni o comportamenti a rischio diventa enormemente più ampio e più importante. Secondo che c'è una vulnerabilità particolare durante l'adolescenza in parte per motivi culturali, psicologici ma anche neuropsicologici per cui durante questa fase della vita sicuramente le persone sono più esposte, più desiderose di provare esperienze a rischio, più portate in qualche modo anche a sperimentare se stessi in delle situazioni estreme e quindi questo rende ancora una volta questa fase della vita particolarmente vulnerabile. E quindi queste sono un po' come dire il quadro, le coordinate entro le quali poi noi cominciamo a discutere e a capire perché l'adolescenza diventa oggi una fase su cui è necessario investire la maggior parte dei nostri interventi, dei nostri risorse, del nostro impegno. Dunque oggi qui si tiene un convegno importante organizzato da diversi ordini professionali e da due dipartimenti dell'Università della Calabria e l'obiettivo è mettere insieme appunto gli operatori che vanno dagli assistenti sociali, biologi, psicologi, medici e altre figure professionali. Nel pomeriggio avremo un'interessante tavola rotonda con la partecipazione di dirigenti scolastici, quindi la scuola coinvolta, per riflettere su parole chiave che ho evidenziato nella mia breve introduzione che sono appunto l'adolescenza con la costruzione dell'identità e con l'avvio verso l'autonomia, autonomia che confligge col termine di dipendenze e soprattutto vedere, osservare, rilevare le nuove dipendenze. Non ci sono più solo dipendenze da sostanze ma ci sono dipendenze comportamentali che arrivano fino al gioco d'azzardo, fino alla dipendenza da internet e su queste dipendenze rifletteremo nella giornata di oggi cercando anche di porre le basi per una collaborazione più stretta, più efficace dei prossimi anni. La storia delle dipendenze è una storia particolare, nel senso che va avanti negli anni, si modifica, si modifica perché sono cambiate le sostanze di abuso. Oggi non si parla addirittura neanche più di sostanze ma ci sono le dipendenze comportamentali, quindi senza sostanze. Fino agli anni 90 l'eroina l'ha fatta da padrone, abbiamo iniziato nell'81, non esisteva neanche il metadone e quindi nell'81 si dava la morfina negli ospedali e oggi dal 90 in poi c'è stata questa evoluzione, un'evoluzione di sostanze, dalla cocaina, altra tipologia di sostanze e psicofarmaci. È sicuramente un allarme sociale ma è sicuramente un allarme di tipo culturale, nel senso che non più soltanto i giovani devono essere coinvolti sulla prevenzione ma è anche il mondo degli adulti e delle professioni. Qui è il cambiamento culturale. La tipologia della comunicazione è cambiata, i media, gli smartphone, internet, è cambiato il linguaggio. E sul linguaggio noi operatori sanitari, tutti gli operatori sanitari, abbiamo l'obbligo, il dovere morale, professionale di informare e di chiarire quali sono i rischi delle dipendenze sia da sostanza che senza sostanza.